Un corso gratuito di 40 ore per apprendere le nozioni essenziali per l'ingresso in cantiere. L'espedile colancia a inizio febbraio il progetto Pronti Via. L'obiettivo è rispondere all'esigenza di manodopera delle imprese e dell'edilizia che hanno registrato un boom di commesse negli ultimi due anni grazie alla spinta data dai bonus fiscali. Ma anche offrire ragazzi un'importante opportunità di apprendere un mestiere spesso visto come ultima spiaggia ma in realtà diventato nell'ultimo decennio sempre meno pesante grazie alla tecnologia e più remunerativo. Nell'arco di una settimana dalla 7 all'11 febbraio i nostri insegnanti e tecnici impartiranno ai partecipanti un percorso formativo gratuito organizzato su 5 giornate di 8 ore articolate in moduli da svolgersi prevalentemente e quasi esclusivamente nei laboratori di cantiere quindi con una forte connotazione pratica cosicché anche le necessarie conoscenze teoriche potranno essere apprese attraverso il fare operativo spiega il direttore di Espeleco Luca Patriarca Durante il corso si affronteranno diversi aspetti la movimentazione dei carichi manuale con carriola all'imbrago con accessori di sollevamento l'utilizzo in sicurezza degli elettro utensili le operazioni di armatura dei casseri e la posa dei ferri la preparazione della malta i getti in calcestruzzo il lavoro in quota su ponteggi, scale e trabattelli l'organizzazione dell'area di lavoro il tutto con la massima attenzione alla sicurezza a partire dall'apprendimento delle norme di comportamento e dei dispositivi di protezione da impiegare al termine del corso agli allievi che saranno ritenuti idonei verranno rilasciate le attestazioni sulla sicurezza immediatamente spendibili in cantiere i ragazzi saranno poi messi in contatto con le imprese del territorio alla ricerca di nuovi lavoratori grazie